È ufficiale, tornano le crociere a Marina di Carrara. La trampitura ha chiesto nuovi attracchi per la nave Thompson tra maggio e ottobre. La società che gestisce navi da crociera, lo ricordiamo, aveva lasciato ad agosto scorso lo scalo maritimo a Puano per Livorno, causando una perdita per l'economia locale di 150.000 euro. Ma adesso, messi da parte i vecchi rancori, sembra aprirsi un nuovo capitolo. L'incontro di ieri tra il presidente dell'autorità portuale Luigi Guccinelli e i rappresentanti del tour operator, insieme all'assessore Andrea Zanetti e al presidente della commissione attività produttive Fabio Traversi, ha finalmente gettato le basi per una collaborazione serena. Anche sul fronte servizi non ci sarà alcun scontro. Le offerte presentate a bordo non coincideranno con quelle presentate a terra dall'ATI. Penso che a questo punto si possa dire che sia ufficiale. Dall'8 maggio iniziano i nuovi attracchi per le crociere. Saranno attive fino al 23 ottobre per un totale di 9 sbarchi. La posizione della commissione, a parte accogliere positivamente questo nuovo accordo, diciamo così, però chiaramente è rivolto con uno sguardo al futuro. E quindi da parte dei commissari c'è la voglia, la razionalità di capire anche da parte delle autorità competenti la nostra portualità, quale può essere lo sviluppo di questo settore ritenuto per noi indispensabile. Tra le novità anche quella per il prossimo anno di far arrivare le crociere anche infra settimanale. Ma diciamo che questa è una delle richieste del tour operator e dell'armatore. Loro chiaramente ragionano già per il futuro. Hanno portato a fare richieste per il 2012, non solo per il weekend, ma possibilmente anche per un giorno, almeno un giorno, infra settimanale. Questo poi collegato anche al fatto con la creazione di una banchina croceristica che sarebbe per loro l'ampiamento di tutto un discorso avviato già appunto due anni fa.